Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al programma per l'accesso messo a disposizione della RAI. Questa mattina, oltre alla sottoscritta Alessia Caserio, vicepresidente del Corico Monpiemonte, è presente il commissario Marco Breamonte, al quale cedo immediatamente la parola. Buongiorno a tutti. Quest'oggi vi spiegherò cosa sono i programmi per l'accesso. Il nostro ordinamento prevede una tutela rafforzata per tutto ciò che è il diritto di espressione, il diritto di espressione del pensiero, di informazione e soprattutto la collegata possibilità di offrire alla collettività le notizie sulle attività svolte dai diversi enti o associazioni. Ed è per questo che la legge 130 del 75, poi modificata nel 2000, ha istituito questa possibilità di produrre, di mettere in onda delle trasmissioni radiofoniche o televisive che consentano appunto di informare la collettività sull'attività svolta da diversi soggetti. Chi è che può chiedere l'accesso a questo tipo di trasmissioni? In sostanza, qualsiasi tipo di associazione che abbia una certa rilevanza di interesse collettivo. Quindi parliamo dei partiti politici, piuttosto che delle confessioni religiose, piuttosto che di associazioni culturali di vario tipo, che ad esempio operano nell'ambito della salute, della cultura, dello sport, oppure nell'ambito delle minoranze linguistiche o etniche. E quindi tutti questi soggetti hanno la possibilità di chiedere al Corecom, in particolare, di poter accedere a questo tipo di trasmissioni. Come si può forre questa domanda? È sufficiente inviare una richiesta scritta, formulata o tramite posta elettronica certificata o tramite raccomandata, in forma cartacea, da indirizzare al Corecom, reperite tutte le informazioni sul sito del Corecom collegato a quello del Consiglio regionale del Piemonte. E ogni trimestre, sostanzialmente, il Corecom emette degli avvisi, nei quali appunto spiega le modalità per formulare questa domanda di accesso a questo tipo di trasmissioni. La RAI, in virtù di un protocollo sottoscritto nel 2015 tra Corecom e RAI, centro di produzione del Piemonte, a questo punto ha sottoscritto un protocollo che consente appunto di produrre, per chi non ha la possibilità di farlo direttamente, quindi si possono utilizzare le strutture RAI proprio per consentire di produrre questo tipo di trasmissioni che vengono poi messe in onda per la durata tra 1 e 5 minuti ciascuna, sia dalla radio, sia dalla televisione, a seconda di determinati requisiti. Questi requisiti vengono appunto indicati dal Corecom. Cedo adesso la parola alla collega Caserio. Grazie Marco per il tuo intervento. Per quanto mi riguarda tratterò invece il tema della vigilanza sugli impianti fissi radioelettrici per le comunicazioni elettroniche. Infatti la legge regionale numero 1 del 2001, istitutiva del Corecom Piemonte, e la legge regionale numero 19 del 2004, che disciplina la protezione dalle emissioni di campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici, stabiliscono che il Comitato ha il compito, tra gli altri, di vigilare sul rispetto della normativa relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e altresì verificare che tali tetti, anche per l'effetto congiunto di più emissioni, non vengano superati. Per svolgere in modo efficace ed efficiente questo compito fondamentale e far sì che possa spaziare su tutto il territorio regionale, sul quale insistono gli impianti che generano campi radioelettrici potenzialmente inquinanti, il Corecom, grazie al supporto di Arpa Piemonte, provvederà a selezionare, attraverso il metodo della rotazione, i siti da sottoporre a verifica, attenendosi ad una serie di parametri di riferimento. Innanzitutto i siti a più alta concentrazione di impianti radioelettrici, poi i siti e o le antenne ubicate in prossimità delle scuole, nonché i siti segnalati direttamente al Corecom dai cittadini o dai comitati di cittadini, ed infine i siti per i quali da relazioni amministrative o documenti pervenuti al Corecom da comuni, uffici provinciali, regionali e da Arpa Piemonte, emerga la necessità di un controllo. E con questo concluso vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie per l'attenzione e alla prossima occasione. Il Fab Lab di Confartigianato Imprese Cuneo è un laboratorio di fabbricazione digitale innovativo e rappresenta il segno tangibile di quanto l'artigianato e il mondo delle piccole imprese siano indissolubilmente legate alle nuove tecnologie. In effetti la nostra realtà, strettamente legata all'artigianato e alle PMI, che in Italia rappresentano oltre il 98% del tessuto economico, lavora nella condizione che essere innovativi fuori dagli schemi sia oggi la scelta più appropriata per questo importante settore. L'artigianato e le piccole imprese in generale sono di natura fortemente impegnate nell'innovazione, nella creazione e nell'uso di nuovi strumenti, nell'applicazione di nuove tecnologie e contribuiscono a mantenere elevata la qualità del made in Italy con un costante miglioramento delle fasi produttive e dei prodotti finiti. Si tratta di un'attività fatta di passione ed amore per il lavoro, una ricerca fatta di ore non contate, di notti, domeniche e festivi colme di esperimenti e di prove. Ma non solo, oggi con dinamismo e soprattutto lungimiranza, il mondo artigiano si sta adeguando ai processi di ingegnerizzazione che sono sempre più presenti all'interno anche delle nostre aziende. Va proprio in questa direzione l'esperienza cunese del Fab Lab di Confartigianato Imprese Cuneo, aderente al circuito ufficiale della prestigiosa Università MIT di Boston. In questa fucina di idee, grazie al supporto dell'associazione di categoria, gli imprenditori artigiani scoprono le potenzialità dell'impresa 4.0 e della tecnologia collegate alla manifattura digitale. Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare che Confartigianato Cuneo e Fab Lab Cuneo sono anche accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico come Digital Innovation Hub. I Digital Innovation Hub sono una delle tre strutture previste dal Network Nazionale Impresa 4.0, insieme ai Competence Center e dai punti impresa digitale delle Camere di Commercio. Un percorso questo che interessa non solo i più moderni ambiti del Digital e delle professioni legate all'Information Technology, ma che trova ampio spazio anche nei settori più consueti, dove il connubio con la tradizione e il saper fare risulta essere la chiave vincente per affrontare le sfide del futuro. E quindi stampanti 3D, macchine taglio laser, schede programmabili diventano i nuovi attrezzi del mestiere per gli artigiani del domani. In questo contesto ci piace ricordare le tante attività sviluppate dal Fab Lab rivolte alle giovani generazioni, laboratori dove si unisce lo studio tecnico e applicazione pratica, perché educare all'innovazione vuol soprattutto dire costruire il nostro futuro. Buongiorno, sono Bruno Mellano, sono il garante dei detenuti della Regione Piemonte, ma sono qui invitato dall'associazione Nessuno Tocchicaino Spes Contra Spem, che è un'associazione internazionale che si occupa ormai da quasi 30 anni della lotta contro la pena di morte, della lotta contro la pena fino alla morte e contro la morte per pena. Un gioco di parole che però descrive molto della realtà attuale, sia della pena di morte nel mondo, sia delle istituzioni penitenziarie che anche in Italia, spesso e volentieri, portano fino alla morte del detenuto. In Italia, per esempio, abbiamo oltre 1500 detenuti all'ergastolo fine pena mai, senza speranza. Se ne discute a livello internazionale, con le sentenze della Corte dei diritti dell'uomo, e in Italia, con la sentenza importantissima della Corte Costituzionale, e una riforma dell'ergastolo stativo è in discussione alla Camera dei Deputati. In questi mesi, in queste settimane, l'Associazione Internazionale Nessuno Tocchi Caino, Spes contra Spem, ha lanciato un dibattito, anche culturale, che parte da una lezione di un giurista tedesco, che non è forse molto conosciuto, ai più, che si chiama Gustav Radbruck, che è stato però ripreso in Italia da Aldo Moro, sia come politico che come docente universitario. La lezione di Radbruck, in una frase emblematica, dice non un diritto penale migliore, ma qualcosa di meglio del diritto penale. Appunto, qualcosa di meglio del diritto penale è una discussione che ci porta a valutare che cos'è il diritto penale nelle nostre società occidentali e soprattutto che cos'è quel fenomeno sociale, quel servizio pubblico, che è l'esecuzione penale in carcere, il fine pena mai, la pena che porta alla morte, un carcere che, come ricettacolo di tutti i malesseri, le difficoltà, i disagi della nostra società contemporanea, è fatto in gran parte di persone fragili, di persone ultimi, ultimi fra gli ultimi. E poi, certo, anche da una parte di persone che sono delinquenti, che sono state condannate per reati anche gravi. Ma il carcere, il diritto penale, ha il compito, nella filosofia di Radbruck e di Aldo Moro, e che nessuno tocchicaino ha voluto rilanciare nel dibattito politico e istituzionale italiano, una lezione diversa, un diritto penale superato da qualcosa di nuovo, di più utile, di più efficace. Noi sappiamo che le nostre carceri italiane, come quasi tutte le carceri delle democrazie europee, è condizionato da una fortissima recidiva. Chi entra in carcere e ne esce a fine pena, spesso e volentieri ritorna in carcere, ritorna ad essere arrestato, ritorna ad essere ospite delle patrie galere. Quindi una sconfitta, un fallimento. Qualcosa di meglio del diritto penale vuol dire, per esempio, ragionare, riflettere ed essere operativi sulla giustizia riparativa. Una battaglia, un'iniziativa, che per esempio l'attuale ministro di giustizia, Marta Cartavia, ha voluto fortemente riportare all'attenzione delle norme italiane, costruendo dei percorsi, dei progetti che possano in qualche modo costituire un approccio diverso all'esecuzione penale. Su questo anche la Cassa dell'Ammende, che è un istituto del Ministero di Giustizia, ha in questi ultimi anni finanziato dei progetti specifici proprio per la giustizia riparativa. Anche la Regione Piemonte ne sta per attuare un progetto molto significativo. Nessuno Tocchi Caino ha in questi mesi condotto questa campagna che è di comunicazione, di informazione, con seminari, con assemblee, con pubblicazioni. E questo è, credo, un momento importante per dare conto della riflessione anche giuridica del nostro Paese. Allora, approfitto di questa occasione per salutare e per ringraziare l'Associazione Nessuno Tocchi Caino che mi ha permesso di fare questo intervento. Buongiorno. Sono qui per dirvi che a volte mi sento in difficoltà. Sento tanta confusione e il bisogno prepotente di esternare quello che provo dentro di me. Sono per lo più emozioni che io stesso ho difficoltà a definire. Pensieri che a volte sento inconfessabili. Io ho diversi amici veri. Li conosco da anni. So quasi tutto di loro e loro sanno quasi tutto di me. Ci frequentiamo da soli o con le famiglie. Però, quando avverto dentro di me la necessità di affidare le mie emozioni più intime i miei pensieri più inconfessabili preferisco chiamare il telefono amico. Mi sono spesso chiesto cosa mi spinge ad affidare il mio sentire più profondo a degli sconosciuti che rispondono al telefono oppure mi rispondono con delle mail o in una chat invece che a miei amici di lunga data. Quando chiamo il telefono amico trovo persone che mi ascoltano mi ascoltano con attenzione ed interesse. Mi rivolgono spesso domande tese a capire meglio il mio sentire. Rispondendo alle loro domande allora anch'io chiarisco meglio le mie idee. Mi appare spesso più chiaro il mio sentire. È come se chi mi ascolta cercasse di imparare da me e io da loro. I miei amici invece quando sono in difficoltà è come se avessero sempre qualcosa da insegnarmi. La mia difficoltà a loro non insegna nulla. Mi seppelliscono di consigli. Più che amici li sento psicologi, sacerdoti, insegnanti, maestri di vita. Quando parlo invece con il telefono amico non sento né giudizio né pregiudizio sulle cose che riferisco. Insomma non vogliono farmi cambiare idea o dirmi se le mie emozioni e i miei pensieri sono accettabili oppure no. I miei amici invece a volte li trovo giudicanti e come se volessero insegnarmi come comportarmi nella vita. Mi riferiscono certe frasi del tipo non mi sembri molto coerente ma che razza di pensieri ti passano per la testa? Non ti sembra di essere egoista? In questi momenti sento il bisogno che qualcuno stia vicino a me senza esprimere giudizi immediati su quello che io provo. quando chiamo il telefono amico mi sento davvero protagonista della conversazione trovo attenzione ed ascolto non devo stare a sentire come la pensano loro. I miei amici invece spesso diventano loro i veri protagonisti del dialogo raccontandomi cosa è successo di analogo a loro oppure a dei loro conoscenti trascurando il fatto che il mio bisogno fondamentale è quello di essere ascoltato di dare sfogo ai miei pensieri e dalle mie emozioni. Insomma vorrei che i miei amici si relazionassero con me come fa il telefono amico ovvero da pari a pari ed in piena libertà. Vorrei avere la libertà di dire quello che provo con il rispetto delle mie idee qualsiasi esse siano e infine lasciando a me tutto lo spazio di esternazione di cui avverto il bisogno. Grazie Buongiorno io porto il saluto del Centro per l'UNESCO di Torino che è nato a Torino nel 1983 e da allora non ha mai smesso di dare alla città di Torino il valore che la città merita. ha cercato sempre di far conoscere i valori dell'UNESCO ma anche altrettanto di far conoscere la città di Torino all'UNESCO è capitato per esempio quando abbiamo avuto la tragedia della Sindone e abbiamo fatto allora un libro che dicesse quanto era importante quel monumento per noi e lo dicesse in quattro lingue tanto per poter divulgare nel resto del mondo tutta l'attenzione che quel monumento e quella tragedia comportavano e ci arrivò una bellissima lettera da parte del direttore generale proprio per promuovere ancora di più la nostra bellezza territoriale la nostra bellezza territoriale che è composta da moltissime realtà quali le realtà sabaude le residenze sabaude quest'anno compiono 25 anni di inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità la lista è stata composta nel 1976 dopo che nel 72 l'UNESCO emanò una convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale dell'umanità e incominciò a mettere in guardia tutti quanti sulla necessità di valorizzare i beni che ciascuno di noi ha sul proprio territorio e fare in modo che questa valorizzazione fosse una valorizzazione non solo legata al territorio ma fosse una valorizzazione che andava in tutto il resto del mondo pertanto noi quest'anno è il cinquantesimo anniversario di questa convenzione celebreremo con un percorso formativo dedicato alle scuole proprio la realtà delle residenze sabaude inserite da 25 anni e sono 22 in tutto il resto del Piemonte e poi questo percorso che sarà coadiuvato sia dalla cattedra unesco del Politecnico di Torino sia dagli altri club unesco che ormai sono diffusi in tutto il Piemonte in misura di 12 andremo a far vedere direttamente ai ragazzi quali sono le nostre bellezze a partire naturalmente dal centro di comando della città di Torino Palazzo Madama Palazzo Reale per arrivare alla Regia di Venaria dove faremo un concerto con la Chora Orchestra proprio per dimostrare ai ragazzi che intorno ai monumenti si creava anche una situazione di cultura generalizzata quindi anche faremo conoscere ai ragazzi brani della musica barocca e brani della musica popolare del tempo ma anche brani di letteratura questo percorso da Torino poi nell'anno 2023-2024 passerà a tutto quello che è il contesto delle diverse città creative che sono andate formandosi nel resto del Piemonte oltre alla designazione di Torino come città creativa poi c'è stata la designazione di Biella come città altrettanto creativa per quanto riguarda l'artigianato e la città di Alba che riguarda naturalmente la loro specialità e cioè la gastronomia Alba è stata poi ulteriormente insignita adesso di una importante riconoscimento che è quello della cava del tartufo per cui dopo essere uno dei siti presenti all'interno delle langhe Reremonferrato la città di Alba ha ormai una grande rilevanza in tutto il Piemonte quello che noi vi invitiamo a fare è seguire questo nostro percorso che ripeto incomincerà a novembre dedicato a studenti e insegnanti per incominciare una formazione che andrà avanti fino al 2025 ci auguriamo così di poter avere con noi dei veri e propri ambasciatori delle bellezze che il Piemonte e la città di Torino offrono a tutti quanti grazie e buon lavoro a tutti Un buongiorno a tutti i telespettatori mi chiamo Vitaliano Alessio Stefanoni sono il responsabile regionale di CNA Federmoda ci occupiamo di tutela sindacale del mondo della moda a 360 gradi siamo parte della grande famiglia della CNA che a livello nazionale nel settore moda rappresenta ben 25 mila operatori dal laboratorio di confezioni che opera conto terzi all'interno delle filiere delle grandi griff nazionali e internazionali al mondo della pelletteria per arrivare fino alla sartoria di tè individuale e in particolare voglio parlare a tutti voi di un grande appuntamento tutto torinese la settima edizione della Torino Fashion Week che si terrà quest'anno a Villa Sassi in una location esclusiva per Torino e il Piemonte con una formula che guarda al pre-pandemia per fortuna dopo due anni di sfilate che si sono svolte assolutamente in forma digitale cercando di non fermare la grande macchina della moda torinese e piemontese abbiamo finalmente in programma un'edizione totalmente dal vivo totalmente live che permetterà ad un pubblico selezionato di amanti del mondo della moda ma certamente anche di buyer certamente anche di operatori economici e del mondo della comunicazione di vedere direttamente dal vivo ben dieci uscite di dieci stilisti o comunque di dieci realtà torinesi e piemontesi del mondo della moda voglio ricordarle queste sono attività di territorio ma abbiamo anche tre istituti tre istituti che formano che formeranno le nuove generazioni della moda torinese l'istituto Ghirardi le scuole san carlo e l'istituto zerboni poi abbiamo dei brand di territorio invito tutti a seguire le attività di CNA federmoda attraverso i canali social chiocciola CNA torino sul sito internet dell'associazione www.cna-to.it perché ci sarà la possibilità a partire dal mese di maggio di accreditarsi di chiedere l'accredito per partecipare a queste sfilate sfilate che si concluderanno anche con un momento di festa per un rinnovato incontro con il pubblico che sarà la grande soddisfazione per gli stilisti che dopo due anni di sfilate dietro le telecamere che hanno comunque consentito di raggiungere un pubblico interessante e anche internazionale e quindi come dire non si butta via nulla è stata un'esperienza importante praticata dalle grandi griff e chiaramente anche dalle piccole realtà di territorio Fashion Week un format ideato sette anni fa da Claudio Azzolini che è anche vicepresidente di CNA Federmoda Torino e che anche attraverso questo canale vogliamo ringraziare per il suo impegno e il suo coraggio a portare avanti questa manifestazione che però CNA Federmoda e CNA Torino hanno sempre sostenuto con forza convinti del fatto che un evento di caratura assolutamente internazionale a Torino avesse tante cose da dire a Torino nel mondo della moda peraltro si sta verificando un fenomeno di globalizzazione alla rovescia se così lo vogliamo chiamare su dati camerali abbiamo rilevato che il 67% circa delle attività di Sartoria che sono attive sul territorio della città metropolitana di Torino hanno un titolare che non è nativo italiano un dato interessante le nazionalità sono rappresentate e sono le più svariate dal vicino est Europa come la Moldavia come la Romania come la Polonia ma addirittura Sarti che arrivano dall'Afghanistan Sarti che arrivano da territori veramente molto lontani ecco quindi la Fashion Week che tutto questo è molto altro ancora appuntamento a Villa Sassi per questa settima edizione dal 6 al 14 luglio arrivederci i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione a Villa Sassi a Villa Sassi a Villa Sassi Grazie.